Buongiorno Abruzzo, buongiorno Buongiorno amici di Presto Presto, non c'è stata la rassegna stampa, questa mattina non sono usciti i giornali, tornerà puntuale domattina a partire dalle ore 7 con la nostra amica Franca, vostra amica Franca Scaglierini, invece alle 8 c'è Presto Presto, ci siamo, vero Manuela? Buongiorno, come è andata ieri? Tutto bene? Benissimo, abbiamo anche mangiato le virtù, quindi meglio di così Abbuffata di virtù, però sei bella fresca, complimenti Vero Bicchieri pochi, evidentemente Bicchieri vero Mori gelata, perché sapevi che ti dovevi svegliare molto presto questa mattina Noi parliamo di cose serie stamattina, lo sai? Cose serie e cose che meritano attenzione, perché sono argomenti di cui si sente parlare sempre in maniera sommaria, invece è bene approfondire, no? Perché ci abbiamo, innanzitutto comincio dall'uomo, perché sono contro ogni forma di parità, assolutamente C'è anche il vuole un po' di parità Buongiorno Anna del Giudice Ecco, lo sapevo, ma lo sentivo che finiva Medico veterinario, amica, con lei parleremo di animali, lo abbiamo già fatto più volte in questa trasmissione, in particolare di cani E' di un parassita trasmesso da una zanzara davvero fetente, il pappataccio se non sbaglio Parliamo della leismaniosi, purtroppo una malattia diffusa e che si propaga proprio in questo periodo, ecco, tra maggio e settembre e ottobre Però non parleremo solamente di animali, anche se Tuseo degli Ulis gli animali li ama tantissimo Buongiorno Tuseo In una maniera quasi sconcertante, visto che ci ha raccontato dietro le quinte di serpenti che vagano nella sua macchina E stamattina nonostante tutto ha avuto anche il tempo di dare da mangiare ai pesciolini Certo, non i pesciolini rossi però Pesciolini, insomma Quanti ne sono di pesci, Tuseo? Una quarantina, dieci rane e due rospi Non sono in casa, chiariamo, perché magari chi ci segue pensa che sono in casa In giardino però, sono bellissimi, hanno due occhioni rospi meravigliosi Anche organizzarsi nella vasca d'azzo Ecco, magari Però, vedi, lui è diffidente nei confronti degli uomini Ah sì? Assolutamente, si trova bene con gli animali Sì, molto Ah beh, certo E per ritrovare un po' di umanità a un certo punto ha preso l'aereo e ha cominciato a girare il mondo, no Tuseo? Sì Quando è cominciato? Oh, 30 anni fa E che, qual è stato? Perché a un certo punto ha lasciato... Perché prima... La tua spoltore, perché diciamo... Prima aiutavo un po' tutte le organizzazioni che mi chiedevano aiuto Anche con le animaliste, soprattutto? Sì, anche con loro Ho fatto anche comizi agli animali randaggi Anche ai cani randaggi E devo dire, una volta spoltore fece un comizio ai cani randaggi E devo dire che la piazza era piena come se si fossero passati la voce C'è il comizio di Tuseo per noi Per proporre, sto parlando di oltre 20 anni fa Che proponevo un cimitero degli animali Che non fosse solo un cimitero ma che fosse un parco Un bosco, una cosa stupenda che poteva essere anche non solo il cimitero Ma anche un modo educativo dei ragazzi e delle scuole di partecipare Un piccolo museo dei medici che aiutano gli animali Insomma, far conoscere la animale sotto altri aspetti In modo estremamente civile E' cosa che ancora noi stiamo un po' alle falde del Kilimanjaro Sei partito un po' in anticipo Poi invece hai cominciato a, come possiamo dire A cercare di coltivare, diffondere Nel 73 cominciai con Cuba Ecco Ma non per gitta turistica Perché non ho mai fatto una gitta turistica a Cuba Ah, e come ci sei andato a sbattere a Cuba? Perché attraverso il governo cecoslovacco Allora si organizzavano i campi di lavoro sulla Sierra E quindi il viaggio era offerto dalla Checosca Airlines Dal governo cecoslovacco Il governo cubano ci aiutava, ci assisteva durante il periodo E si lavorava per realizzare le case popolari sulla Sierra E hai cominciato? Questo è stato Lì ho cominciato E poi E poi tutta una serie Ma a casa come l'hanno presa? Perché tu hai famiglia, diciamolo Sì, ho tre figli Ora sono grandi Sì, chiaramente Partecipavano a questo tipo di missione O restavano a casa? Credo che adesso sia arrivato al vertice Non ce la fanno più Perché dicono Probabilmente ti fermerai qualche volta Perché sai Poi comincia a pesare Solo in Iraq Non so quanti Migliaia Centinaia di migliaia di macchine Di deserto Fatto Di chilometri Intendo dire Però Vedi La vita è una cosa stupenda E meravigliosa Io dico sempre che la vita Andrebbe Strizzata Come una camicia lavata Va strizzata Se non la fai così E la passi Nella piazza del paese O nella cantina Onestamente Se è vero come io penso sia vero Che quando qualcuno muore Gli passa davanti In pochi secondi La sua vita Io dico sempre Campo qualcosa di più Perché il film Della mia vita Dura una frega E quindi E quindi Frego tutti Bella questa E' una cosa stupenda La vita Con rispetto Della vita di tutti Comunque Assolutamente La vita va vissuta L'importante è che era Con le emozioni Io a 67 anni Ho ancora Della grande Che poi mi dà E' la benzina Della mia macchina Le emozioni La voglia di Di conoscere Di capire Di sapere Occuparsi anche Di giornalismo Essendo un giornalista Scrivere articoli Testimoniare Che spesse volte Dà molto fastidio A questa classe Politica Tra virgolette Che Non accetta Che tu testimoni Questo mi dà Molto fastidio A proposito Di testimonianze All'inizio agosto Del 1990 Se non ricordo male Un giornalista Ebbe la fortuna Di trovarsi in redazione E annunciare Che stavano bombardando Bagdad Tu la televisione La stavi guardando Quel giorno? No Stiamo parlando di Miglio Fede Dire che quattro No Nel 90 Ero ancora qui Non ancora andavo Giù in Iraq Andavo in Bielorussia In quel periodo Con i camion Si andava A Minskan Gomel E proprio Nei punti Della maggiore Caduta radiattiva Che ci fu Perché Dall'Ucraina Dove è Cerno Cerno Proprio La caduta radiattiva Ci fu soprattutto In Bielorussia Quindi Gomel In particolare Che subito Dopo a nord Di poco a nord E quindi si portava Gli aiuti Nei collegi E tutte queste cose qui Poi è nata L'esigenza Che la tua fatica Doveva servire Qualcosa di più Poi È nata Stavo per partire A Cuba Nel 98 Febbraio 98 Stavo partendo Per Cuba Quando mi chiamò Mio cugino Mi disse Io lo chiamai Per dirgli Mi dai ospitalità Perché ho l'aereo Domani mattina E mi disse Ma perché vai a Cuba Noi stiamo andando In Iraq Come scudi umani I primi scudi umani In Italia Contro L'eventuale bombardamento Dell'Iraq E allora vengo In Iraq E a Cuba Ci posso sempre andare dopo Insomma E così partì In febbraio Tra me Ma non ci ha riflettuto Neanche un attimo Nemmeno un attimo Nessuno lo sapeva Lo seppero Perché L'aeroporto Di Roma Fu praticamente Circondata Dalle forze di polizia Perché Non volevano Che ci fossero Interviste A questo gruppo Di 20 persone Che partivano Come scudi umani Non volevano Questo E Rai 3 Trasmisse nel TG Questo fatto E mi intervistarono Casualmente Ecco Sono passati Un po' di anni Soprattutto Gli eventi mediatici Si rimuovono Alla velocità Della luce Che cos'è Uno scudo umano Che cosa avete fatto A Bagdad E qual era la situazione In quel momento Noi eravamo pronti A metterci Sui ponti Di Bagdad Che sarebbero stati I primi Ad essere bombardati Ovviamente I ponti Sul Tigri Proprio per Impedire Che venissero bombardati Che venissero bombardati E nel 2000 Nel 1998 Parlo del 17 febbraio Famoso C'era l'università Italiana Di Chieti Con il rettore Cucurullo Di Ilio Il professor di Ilio Il presidente di medicina Stavano giù Cinque primari Anche Stavano giù A Bagdad con me Ripartire un giorno prima Io ero rimasto Per una manifestazione Di bambini Per la pace Per il giorno di Natale E il 17 dicembre Mentre stavo a telefono A un chilometro Dall'albergo Cominciarono I bombardati Ecco ma perché Sei andato giù Scusami Perché Per vanità Per protagonismo Per quale ragione In fin dei conti Era la guerra Contro un dittatore Sì questo è vero Ma poi scopriamo Che trattava male La sua gente No e la voglia Di andare Lì dove C'è guerra Sicuramente C'è la maggiore Disperazione Di questo mondo Devi sapere La mia voglia Di testimoniare Nasce da una cosa Fondamentale Ed è quello Che spesso Io non accetto Da molte organizzazioni Di volontariato Che si limitano A portare La mortadella Se serve Dico la mortadella Per dire gli aiuti E ci sta Che pur sono utili Che pur sono utili Per l'amore di Dio Però Se in un paese C'è guerra Disperazione L'acqua è putrida Si fa 40 chilometri Per andare A prendere Una pozzanghera sporca Prendere l'acqua Se c'è Le malattie Di tutti Prendi Mogadiscio Tutte le malattie Del pianeta Sono lì Tutte le malattie Del pianeta Sono lì Beh Se c'è tutto questo Non credo Perché lo voglia Dio Ma lo vogliono gli uomini Allora cominciamo A scoprire Cose diverse Chi fornisce le armi Chi da certe cose Ecco Nel 2000 E ci Nel 2000 Più o meno Scoprimmo A Mogadiscio Un traffico di armi Stiamo parlando Di corno d'Africo Per non confondere I nostri spettatori La mattina Di Somalia Stiamo parlando Scoprimmo casualmente 18 camion italiani Con targa italiana Con armi Con cariche di casse di armi Comprate al mercato di Bari Dove il ministro A domanda Rispose Non sappiamo Chi le ha comprate Cioè È qualcosa di assurdo Arrivate al porto Di Mogadiscio E lo stesso funzionario Dell'ONU Che aveva inserito L'Italia Tra i paesi Trafficanti di armi L'Italia Non una persona Una ditta Ma l'Italia Tra i paesi Trafficanti di armi Dove c'era Lo Yemen L'Arabia Saudita L'Etiopia L'Eritrea Djibouti E l'Italia E alla domanda Il funzionario Della Nazione Unita Che chiamiamo Ed era In quel momento In Kenya Lo chiamammo E disse È più importante Quello Che il governo italiano Non dice Che quello che afferma E cioè Non sapevano niente Questa è stata La risposta Pungente E forte Del rappresentante Della Nazione Unita Senti Torniamo un attimo A Baghdad Quando tu sei Deciso di andare lì A fare Lo scudo umano Ma che gente Hai trovato C'è un po' La curiosità No? Perché Si pensa Un paese arabo Tradizioni e culture diverse Però è anche vero Che l'Iraq Era molto più vicino All'Occidente Di quanto si potesse pensare E in secondo luogo Ricordiamoci sempre Che tra quei due fiumi Tigre e Leofrate C'era C'è la Mesopotamia Dove è nata Dove è nata la cultura E la civiltà La civiltà Sì Sì Che gente hai incontrato Guarda Soprattutto Con la prensione Di una guerra impellente Quando parliamo di Iraq Di uno dei paesi arabi Più avanzati Del mondo arabo In generale Del Medio Oriente Secondo Stiamo parlando Di un paese Che allora Era laico Fondamentalmente laico Dove la vita religiosa Era profondamente rispettata E non c'era tolleranza Nel senso Che la tolleranza In qualche modo È una parola brutta Per me Significa sopportazione Io ti tollero E già è brutta E invece Questo non esisteva Non c'era problemi A Natale Era festa Per tutti i cattolici Che andavano a messa Il lunedì Dopo il successivo A Natale Il giorno successivo Era festa I cattolici Non andavano a lavorare Cosa impensabile In un paese arabo Musulmano E Quindi l'attrito Teoricamente Tra sciiti E sunniti Non è mai esistito Quindi Assolutamente Questa è un'invenzione D'altronde In tutto il mondo Siamo capaci Di creare Talmente odio Che adesso È quasi Irrifrenabile La macchina Di guerra E della vendetta Si è messa in moto Da molti anni fa Non dimentichiamo Che Bush Prima di andare via Ha ammesso Premesso Che ci sono Dei documenti Delle Nazioni Unite Che ci sono Documenti Della stessa FBI Della CIA Che affermano Le armi di sterminio Non c'erano Ma lui aveva bisogno Di questa guerra Per appropriarsi Come succede Oggi come oggi Gli iracheni A nove anni dalla guerra Hanno soltanto Due ore di luce elettrica Questa è la realtà Non hanno luce Funzionano tutti Con i gruppi elettrogeni Chi ha i soldi Si compra Un gruppo elettrogeno Che certo Non fa funzionare L'aria condizionata Ma serve soltanto Per l'elica Che ti fa un po' D'aria A 60 gradi All'ombra Certamente Non è una grande cosa Ed è questa La realtà Dove la gente Va a prendere benzina Per i gruppi Con il bidone Di 20 litri E non sempre E non sempre lo trova La benzina Perché qualcuno In Iraq Frega È chiaro No? Ecco Qualcuno frega Il petrolio Iracheno Food for oil E di questo avevano bisogno Oltre che Di una base militare Che controllasse Tutto intorno Probabilmente la prossima guerra Sarà contro l'Iran E probabilmente Come ho avuto modo Di scrivere già Tantissimi anni fa Le prossime guerre Saranno per l'acqua Ti dico che Anche noi italiani Abbiamo costruito Abbiamo collaborato A costruire Delle grandi dighe In territorio turco E in zona kurda Della Turchia Su Tigre E Serufrate Il Tigre È sceso Almeno di Parecchi metri Del suo livello E fa vivere Tanti paesi Che attraversa È una fonte enorme Tenuto conto Che devono attraversare Questo paese E sterminato E quindi capisci Sono state costruite 20 dighe Vedi In Iraq Sono 2 milioni e mezzo I kurdi In Turchia Sono 23 milioni Un paese Dove è vietato Mentre in Iraq Anche ai tempi di Saddam C'era completa libertà Per cui si studiava Il kurdo A scuola Si parlava il kurdo C'erano ristoranti kurdi A Baghdad E tutto il resto In Turchia È vietato Parlare kurdo Sappilo Ecco perché Il dittatore è pieno Il mondo E i vizi dei piccoli Dittatori Sono tanti Se noi vediamo Dittatori di paesi Di stati Se noi vediamo Perfino dei sindaci Che sono talmente Megalomani Che Allora Guardiamo bene I grandi piccoli Allora Tuzio si entusiasma Sempre tantissimo Quando parla Delle sue storie Ma anche in modo Di fare Se vogliamo Controinformazione Rispetto a quello Ufficiale Anche per fare E non parliamo Perché anche la nostra Manuela Si occupa di cucina Sì ma Io spero Al di fuori Del Tg Anche nel Tg Ieri Sì sì Abbiamo preso Un brutto vizio Un brutto pieghe Ma ieri Una giornata di festa Dai È stata un'occasione Eccezionale Siamo andate a degustare Le virtù Le virtù Però abbiamo parlato Anche dei lavoratori Gira il mondo Mangia le cose più oscene Non conosce le virtù Ma come si può fare Che ormai è cittadino del mondo Ha perso la sua natura Abruzzese Nessuno lo può invitare Ma nel mondo globalizzato Bisogna valorizzare Le peculiarità Anche enogastronomiche Gastronomiche in questo senso Lo sai che sfondi una porta aperta Forever Assolutamente No Io amo il pesce del tigre Che mi piace In modo favoloso Quando arrivo La prima cosa Mi invitano gli amici Del club Degli artisti Che dove vado a mangiare Il pesce di fiume E che pesce è questo Sono i pesci giganti Bellissimi Ne fanno sempre Uno o due Due pezzi E si cucina in modo particolare Perché questo pesce gigante Tipo carpa Ecco Per essere chiari Nisguff Si chiama Si taglia a metà Si toglie Si toglie Le interiora Del pesce E si mette Su delle grate Su delle grate A destra e a sinistra Si mette questo pesce Ok Anche se vai al ristorante Può essere in ferro O in legno Quello più grezzo Del popolare E poi con i legni Che si mettono al centro Col fuoco Con i carboni Tipo a fuoco Il pesce piano piano Non è affumicato Non è sul fuoco Ma ai lati Semplicemente con il calore Sprigionato Per questa Si cucina Lentamente Ed è buonissimo Si mangia ovviamente Con le mani Ma è straordinario Ti scegli la tua parte Semplicemente pesce Senza spezie No Guarda che di spezie La cucina araba Di attacca Soltanto con gli antipasti Le creme E le altre cose Le creme di ceci Con olio di sesamo Vedi che poi Ascolta Siamo finiti Gli scusi umani A tala non c'è Grazie Ma anche il mondo E' una quantità Cioè renditi conto Ci ha portato anche Le cantanti questo Bagdad Di raccontarci questa storia Una in particolare La Nannini Di artisti a cantare Per la pace Per l'estate E poi già La Nannini Che dopo l'hai portata Anche qui all'università Che non è roba da poco Come ce l'hai portata La Nannini lì Mi chiamo un giorno Lei stava in ambasciata Devo dire Con un pizzico di orgoglio Ovviamente Qualche volta Fatemi avere anche questo C'avevi capelli neri A quei tempi C'avevi capelli neri Lo sguardo Con l'espressione Un po' medio orientale Andoi in ambasciata Per avere il visto Per arrivare almeno A confine iracheno Giordania Perché voleva fare Una sua esperienza Personale E l'ambasciatore Mi disse Guarda La persona che ti può Accompagnare in questo In Italia ce l'abbiamo Che durante la guerra Ti potrebbe portare Anche a Baghdad Dipende da te Dalla tua volontà Se hai anche La forza Di andarci E mi chiamò lei Gli dette il mio numero Di telefono L'ambasciatore Mi chiamò Mi disse Sei tu Sì Io sono Gianna Aranini Ok Gli dissi Semplicemente Stavo per partire Il giorno dopo Sarei partito Per l'Iraq Mi sarei fermato Due giorni Ad Amman Per organizzare La partenza Attraversare Il deserto In Siria Altro bel posto Molto tranquillo Tutte queste robe qui E lei disse Va bene Io sono in Germania Ti raggiungo Ok Io ti aspetto Ad Amman Tu mi dici A che ora arrivi L'aeroporto Ti vengo a prendere Le condizioni Sono solo due Dovrai dormire Dove dormo io E non In un altro albergo E l'altro Qualsiasi azione Tu fai con le mani Dalla macchina Non la fare prima Prima me lo devi chiedere E non fare Nessun movimento Perché potrebbe costare La vita di tutti Punto Che beve su un posto Lei si è attenuta A questo Gli trovai un posto Perché non c'era posto Da nessuna parte E lei lo scrisse Su Repubblica Allora Che quando entrammo Al Palestino Hotel In mezzo a una manifestazione Di decine di migliaia Di iracheni Contro gli americani Entrammo lì I camerieri Tutti i camerieri Mi hanno subito Riconosciuto Ed è uscita la camera Per lei Dove le camere Erano imbrattate Di ogni cosa Perché c'erano I giornalisti Stranieri Al Palestina A testimoniare Quello che accadeva E lei ha fatto Credo Una bellissima La Cannini Che si raccomanda A Tusio Quando torno in Italia Deve accadere L'opposto Nessuno mi raccomanda Per niente Vabbè Troppo fortuna C'è lo scambio di favori Quindi sicuramente A zazzare Come state messi A Baccante Le zazzare Sono toste Sono toste Selvanze Sì anche perché Il Tigri Non taglia Immediatamente Bagdad Ma si Fa una contorsione Dentro Dentro la città E Quindi il fiume Crea Umidità Molta umidità Ci sono molte zazzare Ma io non ho questi problemi Quindi Tutto bene Sei superiore Lo chiedevo Perché ecco Se arrivando l'estate Come diciamo Alleggeriamo un po' La situazione Anche se Per molte persone Per molte Amanti degli animali Che hanno nel cane Nei cani I migliori amici È un problema È una preoccupazione Perché si avvicina Il caldo E soprattutto Nelle zone di mare Umide Ma a questo punto Direi che non c'è più Posto Tra virgolette Sicuro Si ripropone Ecco Tra maggio Ed ottobre Ritengo sia questo Il periodo Dottoressa del giudice Ti chiamo Anna Perché ci conosciamo Prego Si ripropone Questo problema Della lesmaniosi Che si scrive In una maniera Abbastanza strana Ma che cos'è La lesmaniosi? La lesmaniosi Come dicevi tu È una malattia Che ci preoccupa Particolarmente È molto diffusa Purtroppo Nelle nostre zone Un po' in tutte le zone Che si affacciano Sul bacino del Mediterraneo Proprio perché L'agente vettore Cioè che trasmette Questa malattia È come dicevi tu Una zanzara Più precisamente È un fleboton Una zanzaretta Molto piccola Questa comunque Stiamo vedendo Delle immagini Che riguardano Poi gli effetti Della lesmaniosi Invece Magari dalla regia Possono mandarci L'altro video Sempre che abbiamo preso Da Animal Planet Curiosando Su Youtube Relativo proprio Alla trasmissione Perché si tratta Di un parassita Di una particolare zanzara Giusto? Sì Ecco Eccolo qui Questo è importante Perché ecco Il cane Non infetta Un altro cane Anche il cane malato Non è in condizioni Di infettare Un cane sano A meno che Non ci sia Il vettore Cioè questa zanzara Che punge Fa il passo di sangue Sul cane malato E poi Punge Il cane sano Chiaramente La zanzara In questione Deve essere infestata Cioè Deve contenere Deve tenere dentro Questo protozoa Che si chiama appunto L'esmania Ma è una zanzara particolare Non tutte le zanzare Appunto Ti dicevo questo Il flebotomo Che è una zanzaretta Piccoletta Che punge Soprattutto Nelle ore serali E se infestata Da questo protozoa Diventa una zanzara Pericolosa Cioè può Infettare L'animale Che viene punto Ci sono delle zone In Italia Particolarmente Interessate Da questo tipo Di problema Mi viene in mente Il Piemonte Comunque zone No sono anche Recentemente Anche queste zone qui Ecco Da noi com'è la situazione Qui in Abruzzo La situazione È grave Soprattutto Nelle zone Caldo Umide Quindi tutte le zone Di costa Le zone costiere Le colline Vicino alle zone costiere Dove c'è un clima caldo E un'umidità Un tasso di umidità Elevato Che proprio Rende possibile La vita A questi A questi Pappataci A questi Flebotomi Adesso si sta Scoprendo Questa malattia Anche in zone Meno costiere Ecco ma come ci sono arrivate I listi flebotomi I listi zanzare Eh ci sono arrivate Diciamo che Un po' I cambiamenti climatici Un po' Chiaramente Gli spostamenti Degli animali Quindi anche delle persone Tra virgolette Sì Per esempio C'è anche Per i cacciatori Che spesso vanno in Croazia A cacciare E il cane Diventa vittima Di una puntura Di un flebotomo croato Non ce ne vogliono E poi torna In Piemonte O in Lombardia E quindi Non ce ne vogliono I cacciatori Ma noi siamo Del partito degli animali Ah beh sì E poi Certo che sì C'è una patente E la patente E il cacciatore Di soldi Il problema Prima Scusa Il problema È che il cane A quel punto Diventa un serbatoio Diventa un serbatoio Perché punto Da una zanzara Poi Ma in tutta la sua vita La zanzara È contagiosa? Sì La vita della zanzara È molto breve Per cui se la zanzara La zanzara In questione È Ripeto Porta dentro di sé Questo protozoo È infestante È mortibile La zanzara Ma guarda Esattamente Non te lo so dire Però si tratta di Questioni In alcuni casi Proprio di ore In altre Due o tre giorni È un secolo di vita Per me Tu dimmi la verità Tu ho detto Che sei però Oltre animalista È pacifista Completo Rispetti qualunque Sono tempi duri Per i pacifisti Vabbè Se ne sono scordati Che significa la guerra Ascolta Ma l'ha mai fatto così A una zanzara? No guarda Io In giardino Non mi devo fastidio Ci stanno anche le zanzare Avete fatto un patto In non berigeranza Nel senso che Non ti fungono E tu non le fai fuori Cioè i gechi Figuriamoci Non mi danno fastidio Ma tutti Dico dai serpenti Le altre cose Le zanzare Sì però sai Le zanzare sono fastidiose Secondo me Secondo me lui rispetta Le catene Quelle alimentari Per cui la lucertura Si mangia la zanzara Quindi non fa mai così Per far fuori Le zanzare Le rane ripuliscono Il giardino Dalle zanzare Ecco vedi Però quando stai a Bagdad Le tue rane Le lasciate a spoltore Oppure quando ti vedono Oppure quando ti vedono Dicono Questa è più rompiscatole Di noi Lasciamolo perdere E la nostra proiezione Umana Va bene Come arrivano Prima stavamo vedendo Un video No? Di Animal Planet Questa zanzara Punge Il cane Dove di solito Lo punge Le fasce orarie Sono quelle della sera Sì quelle serali E chiaramente Viene punto Nelle zone glabre Quindi dove non c'è pelo Sono le zone più Più a rischio E poi chiaramente Più a rischio Un cane Che ha un pelo Molto molto corto Molto aderente Al corpo Piuttosto che un cane Che ha una grossa quantità Di pelo Però ecco In tutti i cani I tartufi sono glabri Il padiglione Auricolare È glabro Le zone ascellare Ecco queste sono Le immagini invece Di animali Che sono stati infettati Da Lesmaniosi Hai trovato delle immagini Queste sono le più terribili È un esempio Della dermatite acuta Che può venire spesso E questo Ecco Quella L'immagine di prima Quella che abbiamo visto Del cagnetto con gli occhiali È un'immagine Particolare Perché ecco Spesso È Quel tipo Di alopecia Perioculare Da un indicatore Ecco questo Cagnetto con gli occhiali Che presenta proprio Un'alopecia Perioculare Questi sono i sintomi Chiari Ecco Tipico Di un cane Con l'esmania Non è soltanto Un cane con l'esmania Che può essere In queste condizioni La fase avanzata Allora Abbastanza Questa è la forma cutanea Oltre alla zona perioculare Può essere interessato Ecco il tartufo Quindi il naso E La pinna L'orecchio L'orecchio Sì Tutto il margine E soprattutto L'estremità E il bordo Spesso vediamo Questi cagnetti Che hanno Proprio Sulla punta Sì Sanguina Per un padrone Un dolore Penso abbastanza Senti Io ti volevo chiedere Innanzitutto Se bisogna aspettare i sintomi Quando si manifestano i sintomi E come si può capire Se un cane È affetto o meno L'esmania Però ce lo dici Fra qualche istante Perché Andiamo in pubblicità A fra poco Sì Bene Eccoci di nuovo insieme Hai visto che disciplina Che c'è in questa televisione Perché stava facendo comisi Stava ghiacchierando In una maniera Disturbava anche Dei zanzari A livello di gestapo Quella diretta L'ha richiamato All'ordine Però Noi stiamo facendo Un discorso Con Anna L'idealmente Alla lesmaniosi Allora Come si scopre L'infezione Bisogna aspettare La manifestazione Dei sintomi O si può scoprire prima Guarda Se una persona Arriva ad avere un cane Come quelli che hai fatto vedere prima Pensa che c'è ancora qualcuno Che può pensare Ma sarà una forma di rogna Gli faccio un bagnetto No Sì Chiaro che A quel punto La situazione È Abbastanza grave E calcola che Quella che hai fatto vedere In quei cani Che hai fatto vedere Nelle foto Sono tutti cani Che hanno una forma Di lesmania Perlomeno Quella che si vede Dalla foto Una forma di lesmania cutanea Quella che è più evidente Nel senso che Appunto Queste Le lesioni di cui parlavamo Che sono Le lesioni Generalmente Non originose L'animale appare Magro Con tutte queste ferite Soprattutto Quindi c'è una perdita di peso Sì Con tutte queste ferite Soprattutto All'estremità degli arti Orecchio Naso Intorno La zona perioculare E lì La forma cutanea È abbastanza evidente Però Si può manifestare Anche Con una forma viscerale Per cui il cane Apparentemente Lo vedi Magro Un po' svogliato Con un appetito Anoressico Alcune volte Ma la maggior parte Le volte Con un appetito Un po' capriccioso E fondamentalmente Ti rendi conto Che c'è qualcosa Che non va E in quel caso La visita Alcune volte Si perde tempo Proprio in questa fase Perché sì Oggi ha mangiato Magari domani Non mangia tanto Però lo vedo Lo vedo che si muove Abbastanza contento E poi si fa Una visita E si scopre Che la forma Presente in quel cane È proprio La lesmania viscerale Poi leggevo Poi leggevo Ci può essere Una crescita eccessiva Di unghie Oppure dei dolori Sì Infatti Diciamo che Questa Questa malattia Poi in realtà Questo protozoo colpisce Il fegato La milza I reni Può portare a una morte Il cane Assolutamente Sì Ma può guarire? Diamo anche una speranza Sì No Aspetta Prima di parlare Proprio delle terapie Volevo chiederti ancora Un cane così È contagioso Per altri esseri Perché c'è anche La lesmania umana Può essere pericolosa Per l'uomo Potenzialmente La lesmania È una zonosi Per cui sì Può essere contagioso Anche per l'uomo E come ti dicevo prima È un serbatoio Per cui conserva La gente Infettante Dentro di sé Il vettore di trasmissione È sempre la zanzara Sì Sì Quindi anche dall'animale Quello che colpisce il cane Può essere pericoloso Anche per l'uomo? Guarda Fondamentalmente Se tu consideri La diffusione Nei cani Nella nostra zona Semplicemente Nella nostra zona È molto molto elevata Almeno quella poi Di cui Si è a conoscenza Se calcoli Che è una malattia Suddola Per cui ha un andamento Cronico Non succede che Può anche non manifestarsi subito Assolutamente Nella maggior parte dei casi Non si manifesta subito Proprio è un andamento cronico Per cui Dopo che l'animale È stato punto I sintomi Si manifestano Quando si intuisce Chiaramente un padrone Porta il suo cane Da lei O da un altro veterinario E quindi Come è riuscito a capire Che si tratta di lesmania E soprattutto Lesmaniosi E quali sono poi I test Gli esami Come si fa la diagnosi? Allora La diagnosi Si fa Chiaramente Si fa una visita Si mettono in evidenza Delle caratteristiche Che poi a una visita Appaiono Più chiare Per esempio Possiamo trovare Un aumento Del volume Dei linfonodi Esplorabili Possiamo trovare Delle mucose Molto pallide L'animale Si presenta Magro Come ti dicevo Magari A livello Di cute È presente Una forfora Un odore Che magari Al proprietario Non è così chiaro Ma un odore Un po' di sebo Un po' seborroico E chiaramente Lì nasce Il sospetto Poi Va fatto Un prelievo Di sangue E va Controllato Appunto Si fa un test Sierologico Per cercare Gli anticorpi Ecco perché Giustamente Lei parlava Di questa specie Di sorta di forfora Che viene fuori dal cane Il proprietario L'amico del cane Si deve innanzitutto Preoccupare Si rivolge Da una professionista Non è solo La forfora Tanti cani Ci hanno la forfora Perché vengono alimentati male Per esempio Però Ecco appunto Proprio per questo Può togliere il dubbio No? Si ma io posso essere Ancora più precisa In questo senso Se uno vuole essere Se un proprietario di cane Vuole essere Sicuro Che la situazione Sia tranquilla E Può tranquillamente Fare Un esame Sierologico Una volta all'anno Al suo Amico A quattro zampe E a quel punto Se c'è la lesmania Si parte Con una terapia Una cura Quello che voleva sapere Anche Manuela Si Diciamo che Fondamentalmente Proprio perché ti dicevo Che è una malattia Un po' subdola Con un andamento cronico Se io faccio Un esame Seriologico E trovo Una positività Cioè trovo Gli anticorpi Della lesmania Posso trovarli Anche in un cane E mi è capitato Apparentemente Sano Cioè Un cane Nel quale La scoperta Che c'erano Degli anticorpi Per la lesmania È stata Casuale Cioè In uno screening Generale Ho trovato Una positività Alla lesmania Su un cane Che Era Normo peso Senza lesioni Cutanee E in questo caso Si devono fare Altri accertamenti Si deve fare Un esame Del sangue Un ematochimico Si devono andare A valutare I valori Relativi Al Al fegato E ai reni Perché Come abbiamo detto Viene colpito Il fegato Ma viene colpito Soprattutto il rene Che subisce Una violenta Glomerulone E frite Quindi ci sono Alcuni Valori Che si alterano Notevolmente Uno di quelli Di riferimento Sono le proteine Totali Scusami Esistono poi Dei protocolli Terapeutici Certo Certo Proprio ti dicevo questo Che siccome Le proteine totali Sono importantissime Si fa un tracciato Elettroforetico Che è fondamentale Cioè Si vanno a vedere Quante sono Le globuline Quando sono Il rapporto Tra globuline E albumine Si ha Un'ipergamma Globulinemia L'ho detto E un'ipo Albuminemia Per cui il rapporto Si inverte E questo è fondamentale Quando c'è l'inversione Di questo rapporto Bisogna Intervenire Considerando che Anche gli altri valori Che abbiamo controllato Spesso risultano Come si interviene In questa fase Chiaramente Iniziale Ma anche In quella fase Che dopo abbiamo visto In quelle immagini Di prima Allora Noi interveniamo Per tenere Sotto controllo I sintomi Con la terapia Riusciamo Non nella totalità Dei casi Però riusciamo A controllare i sintomi A far stare L'animale meglio Però Difficilmente Riusciamo A negativizzarlo Cioè È capitato In alcuni casi Che Facendo dei controlli Sereologici Nel tempo Come consigliavo Prima Ad animali Che presentavano Dalle smani A un certo punto Gli anticorpi Non erano più Presenti Al test serologico E quella è la migliore Buona notizia Sì Ok Però Non si sa poi Definitiva Come situazione Però fondamentalmente Quello a cui Noi tendiamo È quello di far stare Meglio l'animale Di farlo Essere un animale Che abbia Un cane che migliora Diciamo Accade anche il miracolo Che guarisce Mettiamola così Tra virgolette Tra virgolette Può ricadere Assolutamente sì Quindi c'è una recidiva Purtroppo sì La presenza delle recidive È Frequentissima E può capitare Che durante una recidiva Ci sia L'evento fatale Insomma Che l'animale stia peggio I valori siano Molto più Alterati E può non farcela In quella situazione Per cui Quando uno Una persona si trova Ad avere un cane Con la lesbaniosi È sempre una situazione Un po' Al limite Al limite Sì Sulla quale bisogna Parliamo di cura Però parliamo anche Di prevenzione La prevenzione Per eccellenza Sarebbe il vaccino Però Non ancora siamo O forse Abbiamo fatto Dei grossi passi In avanti Sì Dei grossi passi In avanti Perché adesso C'è un vaccino Disponibile Pare che non abbia Una copertura Al cento per cento Però È uno dei Dei passi avanti Che si è Che si è fatto Ultimamente Però Chi ha Un giardino A tener pulito Il disinfestato Del giardino A evitare che Il cane Razzo Li odorma Sull'erba Soprattutto Nelle ore notturne Esca Nelle ore serali Sono delle buone Abitudini E soprattutto Fondamentale È l'utilizzo Di repellenti Tipo colorini O pipette Esistono Repellenti Che hanno una durata Più breve nel tempo E repellenti Che hanno durata Un po' più lunga Nel tempo Ma ecco Bisogna essere Molto molto Precisi Nel fare questo Perché appunto Essendo semplicemente Repellenti Se si vuole bene All'animale Bisogna fare anche questo Bisogna creargli lo schermo Più possibile Sicuro Ma domanda L'ipotesi di un vaccino È molto lontano Sì No 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 C'è 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 Cettuzio Che Prima diceva Voleva aprire un canino A Bagdad Lo farà Sono sicuro Sono sicuro Che lo farà Rifugi per cani E canili Sono praticamente Le situazioni più A rischio Tra virgolette Ecco questo A cui pensavo Proprio questa mattina Nel senso che Tu sai benissimo Come è la situazione Rifugi e canili Dalle nostre parti Non ti dico Come Bagdad Però voglio dire Non ci abbiamo niente da invito Anche se sono altri impuri Magari Li rispettano Per cui la lesmania Chiaramente Dove c'è maggiore concentrazione Di animali Le zone sono quelle che sono Quindi umide Calde Eccetera Nei canili Nei canili È una piaga Terribile Anche perché Usare dei repellenti Su tutti gli animali Usarli con la frequenza giusta Curare gli animali Che rappresentano Perlomeno Non vorrei esagerare Ma il 10 In alcuni casi Anche il 15% Degli animali presenti Quelli malati Quindi fare la terapia Che poi prima abbiamo accennato Ma è una terapia Molto lunga Per cui Appunto perché Tiene sotto controllo La sintomatologia È una terapia Che va Prolungata Molto nel tempo Alcune volte Vanno fatti Dei cicli Continui Va fatta una terapia Anche di sostegno Nei confronti Dell'animale Che magari è anemico È debole Eccetera Per cui è un costo Impressionante Per questi canili Che non ce la fanno Non ce la fanno Già mantenere Già spamarli Sì esatto Un canile sano Nel male ci sono Delle volontarie Tra virgolette Tipo Anna Che si dà da fare Anche per questi animali Vero? Sì Purtroppo Ammettilo E le fa onore Perché è un impegno serio Che pochi si sentono Di assumere Sì sì Purtroppo È un impegno sempre Extra time Cioè fuori dal proprio lavoro Per tu si è diventato Un totale extra time Ha diritto Non sa cosa Non sa cosa siano Le virtù Ma sa perfettamente Dove si trovi Sant'Omero Palmense Stavo pensando adesso Alla fattoria Degli animali di Orwell Capisci? Dei porci Dei maiali Di palla di neve No? Il capo Dei maiali E stavo pensando Agli animali Che si ribellano E c'è il cane Che fa scendere Il padrone Della macchina E l'abbandono Lunga 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 Tra l'altro paese No sarebbe proprio Leggere il contrappasso Ma sì Ma dai Vabbè Non vogliamo essere demagogici Però stimolare Alla riflessione Alla cultura È sempre un nostro compito Che ci piace svolgere Noi siamo animali strati Ci piace Ci piace Anche Soprattutto Stimolare la cultura Perché A Bagdad Ha aperto Una biblioteca Che si chiama Ignazio Silone Sì Ieri tra l'altro Sei stata a pescina Da quelle parti No Tuzio Sì Come va Questa esperienza Guarda un po' Io ci entro là Eccolo là Questa è l'organazione Che fece il professore Io non c'ero In quel momento Questo è il capo Il decano Dell'Università Che tagliarono Questo nastro Questo nastro Ecco qua C'è il professor Saad Altai Un grandissimo artista Lavorava presso l'accademia Ma è anche L'inventore Della biblioteca Della facoltà di lingue In italiano È anche l'inventore Il professor Saad Altai I primi libri arrivati Perché Bagdad Che ha subito Delle ferite Atroci Dal punto di vista Delle biblioteche Ma anche del suo patrimonio Storico artistico Che è stato depredato In tutti i mondi Derubato da tutti Li trovi molto spesso I piccoli cosi Trovate lì dentro In Iraq Li trovi È un popolo Che ha comunque L'umiltà Di ricominciare A ricostruire Mattone su mattone Questa volta Libro sopra libro Sopra la sua cultura Con grande interesse Che ci hanno regalato La Treccani Ce l'ha regalato E noi l'abbiamo portato Immediatamente giù La tristezza Che ci ricordavi Quando eravamo in pubblicità Che si è stato richiamato La disciplina È che Questo mondo Intellettuale Così vivace Così attivo Ha difficoltà A relazionarsi Non solamente Quello di Iraqeno Di questo fra poco Ne parleremo Ma anche quello Del corno d'Africa Nella Somalia Con il resto del mondo In particolare Con l'Italia Dove è più facile Arrivare da trafficante d'armi Piuttosto Trafficante d'armi Arriva molto più facile In Italia Che Un intellettuale Somalo E non stiamo facendo chiacchiere Perché mi hai detto Ci sono le registrazioni Le dichiarazioni Io velocemente ti voglio dire Le iniziative in corso In questo momento Parliamo di queste iniziative Perché domani arriveranno In Italia Finalmente Il contesto Santomero Palmenza Ho detto che conosci Molto meglio delle virtù Che cosa sta accadendo In questa Cina Della provincia di Teramo E la presidente La direttrice della biblioteca Gabriele D'Annunzio Di Santomero Ci ha proposto questo Hanno saputo di questa biblioteca Intitolata Silone E infatti Ero a Pescina Ieri Proprio per una conferenza Su Silone E hanno saputo di questo E hanno voluto chiederci La possibilità Di fare un gemellaggio E 3-4 mesi Che ci stiamo lavorando Soltanto l'altro ieri Il 29 Hanno avuto i visti Dalla nostra ambasciata A Baghdad Ieri soltanto Alle 2 Ho saputo Che finalmente Hanno risolto Le ultime questioni Burocratiche E che saranno Domani Il giorno 3 A Roma Alle 11.20 Via Beirut Ma come è nata Questa cosa fondamentale Devi capire una cosa E dalle radici Che bisogna Cominciare a lavorare Per estirpare il male E la cultura L'arte Sono le anime Straordinarie Per superare i problemi Senza la cultura E senza l'arte Che sono linguaggi Straordinari Che non hanno bisogno Di mediatori Di traduttori L'arte La cultura La musica La pittura Sono Dei messaggi Partono da queste cose Messaggi straordinari Che possono capire tutti Guarda come ti Segui incantata Dalla persona Dall'uomo Della tribù Della Mazzonia All'intellettuale Più grande Di questo pianeta Il cinema Ci metti anche il cinema E poi È un'arma fondamentale Metticela Se no Vai a finire male Con la ragazza Sono l'esperta Di cinema In questa serie E' un'arma fondamentale Sul nostro Abuzzo Film Festival Che facciamo ogni anno Sul cinema di guerra Comunque È nata questa esigenza E io li ringrazio Il comune di Sant'Omero Il sindaco Che non ancora conosco La direttrice straordinaria Fino a ieri Stava lavorando Gli ho trasmesso Il logo Della università Di Baghdad Per poterla inserire Non so dove Ma soprattutto Anche la presidente Della commissione Pare opportunità Che credo tu conoschi In questo momento Io gli chiedo perdono Ma non mi ricordo il nome E mi succede spesso Della provincia La del giovine No No Ex consigliere Ex assessore Che non mi viene E gli chiedo perdono In diretta E nasce perché Noi i prossimi progetti Dopo aver finito L'ultimo viaggio È stato a luglio L'anno scorso Non avevamo una lira Se non debiti Come abbiamo adesso E ho chiesto Una mano al ministero Che mi hanno dato Un C-130 Abbiamo portato Gli ultimi due tonnellate Di libri Giù a Baghdad E siccome dovevo Tornare con lo stesso aereo Annullato più volte Sono rimasto Oltre un mese In Giù a Baghdad Posso chiedere Che tipo di libri sono A parte la Treccania Ce l'ha regalato Una casa editrice Di Milano Ci ha regalato Circa 5 tonnellate Due Ne abbiamo Abbiamo avuto L'autorizzazione Per 2 tonnellate Quindi misti Tra saggistica Romanzi Poesia Poesia E poi raccogliamo anche Quelli che escono qui Dalle nostre riviste Dei settimanali Per esempio Sulla poesia italiana Insomma Di tutto e di più Ma questo Dipartimento È nato L'esigenza Tra il professor Sadaltai L'ambasciatore italiano Giù a Baghdad Dei me Perché Io vedevo Lungo il Tigri La biblioteca Bellissime sale Per le mostre O anche per dibattiti Culturali Per esempio Della Francia Della Germania Dell'Unione Sovietica Dell'Iran E di tanti altri paesi In questo mondo E noi Che avevamo I maggiori scambi Dico economici Parlo di quelli economici Ecco perché stiamo Con un debito pubblico Che mette paura E noi che avevamo Maggiore presenza italiana In Iran Con l'Agip E tutte le altre società Una presenza straordinaria Superiore a tutti gli altri Non c'era un solo punto Di riferimento Culturale italiano Cosa Eccezionale Il professore Si è messo di mezzo Pochi mesi prima 6-7 mesi prima Della guerra Nel 2003 Anche di più Quasi un anno Insomma nel 2002 Nasce il dipartimento Di lingua italiana E sono stati tanti E sono tanti Le necessità Dei ragazzi irachiani Che vogliono imparare l'italiano E hanno una risposta Credibile Ed eccezionale Dice ma perché vuoi imparare La lingua italiana Per venire in Italia No E qui dimostra L'italiano spesso Un certo livello culturale Piuttosto basso Perché loro ti rispondono In un solo modo Perché noi Irachiani Irachiani E l'Italia Se mettiamo insieme La nostra ricchezza artistica La nostra ricchezza Archeologica La nostra storia Siamo l'80% Dell'umanità Ed ecco il motivo Perché I maggiori artisti irachiani Si sono laureati in Italia Nelle accademie italiane Perché l'Italia È ancora un punto Di riferimento forte A tu ci piace molto Raccontare queste storie Eh perché chiaramente Trasmette tutta la sua passione Sì sì Lo diceva prima Ogni attimo della sua vita Lo vive con la massima intensità Ma se non hai la passione Con le emozioni E tu magari Ah ci vai a Sant'Omero Sì Domani Il minimo Che ne so Fai la biblioteca Dopo non stai all'inaugurazione Magari sarà Mogadiscio Per esempio Non posso stare Dunque Arriviamo proprio All'incontro di venerdì Ecco perché venerdì Lo andiamo a dire 4 maggio Dalle ore 17 Presso la sala Marchesale del comune Di Sant'Omero Ci sarà appunto Questo gemellaggio Dal titolo Morire di pace Che già il titolo Devo dire Colpisce Perché morire di pace Suona proprio come Una contraddizione Sì Vi ringrazio Per questo titolo Di questi Della biblioteca Di Di Sant'Omero Per questa idea Anche di questo titolo È carina Come titolo Perché Guarda caso Se ci riflettiamo In fondo Andando a studiare Un pochettino Il problema Tutta questa crisi globale Nasce proprio Da questa voglia Di fare Le guerre aumentano Stanno aumentando Sempre di più Su questo pianeta Le disperazioni Aumentano sempre di più Le distanze Tra i vari Stati sociali Aumentano sempre di più La forbice S'allarga E morire di pace È bellissimo Sarebbe un sogno È straordinario Sì Quasi Almeno vale Qualche cosa La vita Ed è nata Questa cosa Soprattutto per un bisogno Una necessità Ecco perché Il giorno 8 Di giugno Presso il patto Delle scienze Qui a Teramo Stavolta A Teramo Esatto Faremo un concerto Con le storie infinite Che sarebbe il gruppo Messo su Dal magistrato Tra Scarese E Gennaro Varone E Bramson Anche bene Certo Perché Noi vogliamo Sostenere Due piccolissimi Modestissimi Progetti Che sono quelli Di Attraverso i nostri Collaboratori Ovviamente Preparati a questo Fare dentro L'università Anche per maggiore Sicurezza Con Avvocati Recheni Con Anche uomini Politici Anche qualche Militare Perché Non parlare Di diritti umani E inserirli In un contesto Scientifico Dei diritti umani Verso la donna E verso gli uomini E verso tutto Manu Io so che ci sono ancora Tante domande Purtroppo il tempo È tiranno Io l'ho detto Un'ora Tante cose da dire L'appuntamento È a Sant'Omero Perché tante storie Venerdì 4 maggio 4 maggio Vi invito a venire Chi è soprattutto vicino Poi è assolutamente Disponibile A raccontare Tutte le sue storie Che riguardano Non sarà bene Riguardano anche Bulundi Uomo d'Africa Certo Eritrea In modo particolare Però vi ripeto E Cuba Però non abbiamo aspettato Della guerra Si sono dimenticati Quasi tutti La crisi che paghiamo Lo paghiamo Per le guerre Che stiamo facendo Per le armi Che stiamo comprando E per le armi Che regaliamo agli altri Dovrebbe essere Un tema quotidiano Dalle scuole Alla società normale E comunque Concludo Volevo anche dirvi Che l'altro progettino I ragazzi Dell'università Non hanno mai avuto La fortuna Fanno sacrifici immensi Noi abbiamo creato Anche un piccolo Coso cinematografico Dove possono essere visti I film italiani Degli anni 60 70 Che sono la storia Della cinematografia Diglielo Diglielo Sì La storia È una cinematografia italiana Lo faremo lì E porteremo Una serie Anche di neolaureati O anche professori Per almeno 5-6 volte Durante l'anno Scolastico Universitario Per 15 giorni A Leggere A Discutere A Spiegare Autori italiani Poeti italiani A leggere Perché è molto importante Perché questo dipartimento Non ha mai avuto A differenza Di tutti gli altri Francesi Tedeschi Inglesi Non c'è mai stato Uno di madrelingua Cosa brutta Noi possiamo fare la foglietti Congediamo anche Un'esperta cinematografica E noi vogliamo portare Ti piacerebbe Due o tre persone Raccogliere i soldi Anche per dare Qualche soldo di rimborso Qualche soldo di rimborso Alle persone Che verranno giù Oltre che al biglietto aereo Anche qualche rimborso Per stare 15 giorni Ovviamente Dormiranno Dentro l'università Non li facciamo uscire Ascolti Intanto Per conoscere meglio Questo incontro culturale Ma anche con le tue storie Con queste persone Venerdì Venerdì 4 maggio Dalle ore 17 Alla sala Marchesale Del comune Di Sant'Omero E per non mancare Essere numerosi A cantare A suonare A battere le mani L'8 giugno Al parco della scienza Qui a terra Dalle 9 a mezzanotte Avranno La possibilità Di ascoltare Le storie infinite Di Dottor Valore Il gruppo Delle storie infinite Una bella musica Suona bene E anche lì Viene trasmessa La sua passione Perché Questo è vero Senza passione Senza diventare maniacali Invece Anna Congediamoci con il nostro Pubblico mattutino Nell'essere sempre Molto attenti E vicini Ai nostri amici A quattro zampe Assolutamente sì Non aspettare mai Che le cose diventino Più gravi Basta stare attenti Poi loro Avvertono sempre Sì Poverini Come possono Cerchiamo di essere anche noi Bisogna averci un certo rapporto Ecco perché Se lo vedi Un'ora al giorno È un po' difficile Se ci convivi È più facile È possibile un messaggio Per i nostri animali Sì Un messaggio Mentre i cani Le piante L'acqua Eccetera Possono fare a meno di noi La natura può fare a meno di noi Starebbe anche meglio La natura Sì Noi non possiamo fare A meno della natura E questa la dice lui Assolutamente sì Cominciamo a capire Che noi non siamo Il centro dell'universo Grazie Io vi ringrazio Per essere stati qui In trasmissione Per aver portato Comunque la vostra Testimonianza D'amore E di umanità In questa trasmissione Come al solito Cerchiamo sempre Di essere Propositivi E positivi Soprattutto nelle prime ore Del mattino Ora Che serve Ora che serve Assolutamente Penso che l'abbiamo svegliati Bene stamattina Assolutamente Grazie Anna Grazie a voi Grazie Tuzio Grazie Tuzio Ciao Manuela Noi ci rivediamo Ciao direttore Noi ci vediamo tra poco Tra poco assolutamente Con la cucina Con il pubblico di presto presto No quella dopo ancora Con il pubblico di presto presto Ci vediamo venerdì Mentre puntuale Domattina alle 7 Torna la rassegna stampa Ovviamente Con Franca Scaglierini E i suoi ospiti Quindi comunque presto presto È confermato anche a domenica Un bacione a Franca Stamattina non ci siamo incrociati Sarà per venerdì Arrivederci Buona giornata Arrivederci Grazie a tutti